Terminata la prima tappa del Giro E 2020, come prima tappa è stata una faticaccia però siamo molto contenti di com'è andata, tutti i concorrenti si sono divertiti, abbiamo inserito quest'anno anche delle nuove prove, delle prove degli sprint o delle prove speciali lungo il percorso per cui molto più avvincente come formula. Siamo partiti da questa mattina alla splendida città di Caltanissetta dove ieri abbiamo fatto anche la presentazione dei team e oggi siamo arrivati qui in questa splendida a Grigento, tutti qui a festeggiare il termine di questa prima tappa. La maglia viola del leader della classifica è vestita dalla team Agenzia Nazionale del Turismo con il capitano Max Lelli ma quest'anno abbiamo anche dei capitani molto importanti come Gigi Simoni, come Moreno Moser, come Roberto Ferrari e quindi diciamo un roster di partecipazione di ex professionisti molto elevato. Ora ci prepariamo per domani, domani avremo già una tappa molto impegnativa con l'arrivo sull'Etna, tutti i team sono al completo perché tutti vogliono partecipare questa tappa, sarà sicuramente partiremo dalla Bianca Villa e per arrivare poi alla cima all'Etna dove arriveranno anche i professionisti e vi attendiamo numerosi. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!